Entra nel vivo il percorso del piano territoriale della città metropolitana, lo strumento di pianificazione del territorio dei 92 comuni che compongono la provincia di Napoli. Dopo l'approvazione del progetto preliminare nel dicembre scorso, prende il via ora l'iter di partecipazione e condivisione, che coinvolgerà vario titolo, enti locali, realtà di cittadinanza attiva e la popolazione. L'obiettivo è disegnare la città metropolitana del futuro. Come spiega Giuseppe Bencivenga, sindaco di Fratta Minore, a cui il sindaco Manfredi ha affidato la delega all'urbanistica per curare la redazione del piano. Quindi adesso c'è tutto l'iter e noi speriamo di approvare il piano territoriale per quest'estate. Regole certe, regole di una visione del nostro territorio, quello di recuperare le zone ormai degradate o ex industriali, questo per preservare, cosa importante che sta a cuore al sindaco metropolitano, il professore Manfredi, quello di evitare il consumo di suolo. Quindi ci sono tutte le condizioni per recuperare le zone malsane, ripeto, ex industriali, ex ovificio e quant'altro, e al tempo stesso quello di preservare quello che c'è ancora rimasto nel nostro territorio.